Superare la rimonta alla Sminut subita a Empoli. La Fiorentina torna in campo al Franchi dove dieci giorni fa ha sconfitto il Milan. C'è Sottil nel tridente con Cagliecon e Vlaovic. La Samp cerca la terza vittoria di fila con Caputo e Gabbiadini davanti. Papiraghi! Sinistro pericolosissimo. Candreva una finta. Arriva il cross, adesso colpo di testa! 1-0 Samp! Ha mirato sul secondo palo e ha colpito Manolo Gabbiadini! E' il primo gol in campionato di Gabbiadini. Sottil. A puntare Candreva, ora la finta. Ancora Sottil, cross tagliato! A destinazione c'è Cagliecon che riequilibra tutto! José Maria Cagliecon 1-1 Cagliecon allargato. Buonaventura in area, il cross. Vlaovic! Di testa, in crocia, Dusan Vlaovic! Festeggia così la centesima in tutte le competizioni con la Fiorentina. Fa quello che fa di solito, il gol! Viraghi! Alza il cross in area, Buonaventura controlla, calcia, deviazione! Sottil! Per il 3-1! Nella porta in cui aveva colpito l'Inter! Segna Riccardo Sottil! Tris nella Fiorentina! Con lo sguardo in area, Candreva con l'esterno, grande idea, Gabbiadini! Al volo! Arriva il cross, colpo di testa, rimane giù Ferrari, Vlaovic! Di testa, Torreira per Sottil che può andare in campo aperto! Velocissimo, Sottil guarda la porta! Sottil! La mette a lato! Candreva, arriva il suo cross, secondo palo, deviazione! Rischio, autogol! Lancio interessante, di testa però Martina e Squarta, Torsby! Arriva lui sulla seconda palla, calcia! Potenza nel destro di Torsby! Male, duello con Torsby, Guagliarella, palla imbucata ancora per Torsby! Dall'altra parte Candreva, visto e servito! Palla per Candreva! Fischia tre volte Dionisi! La Fiorentina ribalta la Samp, vince 3-1 in rimonta!